Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata carissimi amici. Continuiamo il cammino dell'Avvento con i Vangeli Feriali, ma vorrei fare un riassunto da sabato fino ad oggi di questi Vangeli Feriali, perché è veramente un percorso stupendo. Ecco, se vi ricordate, sabato c'era il Vangelo in cui Gesù vede la folla e ne sente compassione. Poi chiama i dodici e li invia dicendo rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele, ai perduti. La sua tenerezza è rivolta ai perduti. Due giorni fa, cioè lunedì, abbiamo ascoltato il Vangelo dell'uomo paralizzato, totalmente incapace di muoversi, di andare, di chiedere perfino. Viene portato dagli amici. È totalmente assistito. E questo è un passaggio fondamentale, quello di sperimentare su di noi l'essere totalmente presi in cura dalla misericordia. Ecco, questo deve avvenire, se no non potremo dare a nessuno misericordia. Ecco, e poi veniamo a ieri, e la prima lettura Isaia 40 Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. E più avanti, ecco il vostro Dio, come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. E il Vangelo di ieri, una parola su questo, allora conclude così, così è volontà del Padre vostro che è nei cieli che neanche uno di questi piccoli si perda. Vediamo ancora una volta l'attenzione del tutto speciale verso i piccoli, verso quelle che, diceva Gesù, le chiamava le pecore perdute della casa di Israele. Quindi dobbiamo proprio riconoscere che i piccoli, gli irrilevanti, i perduti, quelli che non hanno nient'altro magari se non i propri peccati, gli irrilevanti per il mondo, quelli che non contano niente, sono fatti oggetto della predilezione della cura specialissima di Dio. E lui si dà da fare, si dà da fare per cercarli. E quanto più stiamo male perché ci siamo fatti del male, tanto più ha una tenerezza ancora più grande perché abbiamo sofferto molto. E lui prova compassione per questo. Lui viene a cercarci. pensiamo che per cercarci si è fatto uomo. Se no, non poteva essere al nostro livello e riuscire a raggiungerci. Si è fatto uomo proprio per questa condiscendenza che lo porta ad avvicinarsi per poterci raggiungere. Diciamo che è molto importante almeno lasciarci trovare da questo Dio. A volte noi non ci lasciamo trovare perché abbiamo in mente un Dio duro, un Dio castigatore e ci nascondiamo, ci chiudiamo ancora di più in noi stessi. Ma quel Dio non è vero, è la proiezione del nostro io. lasciamoci evangelizzare da questo Vangelo che ci dà il vero volto di Dio e allora ci lasceremo trovare da questo Dio che ci viene a cercare. Ecco, e poi proseguiamo il cammino, vediamo finalmente le letture di oggi. La prima lettura di Isaia dice perché dici Giacobbe e tu Israele ripeti la mia via è nascosta al Signore e il mio diritto è trascurato dal mio Dio. Ecco qui la domanda è ma Dio mi sta trascurando, si è dimenticato di me e dice che non è vero, dice ma guarda anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquila, aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Ecco, e il Vangelo di oggi è proprio intonato a questo tema del riprendere forza grazie a Dio. Ascoltiamo ancora da Carlo. Dal Vangelo secondo Matteo in quel tempo Gesù disse venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono umite e umili di cuore e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Qui c'è veramente il tema della stanchezza, del peso che per noi tante volte diventa insopportabile e Dio lo vede, se ne accorge, sente il nostro affaticamento, la nostra stanchezza. E allora che cosa fa? Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Ecco, il gioco ce lo mette lui sulle spalle. Prendete il mio gioco ma è il suo gioco. Lo sta portando anche lui. Ecco, allora noi ci troviamo a portare insieme con lui per lo stesso amore con cui lui opera, ama. Con lo stesso amore anche noi portiamo questo gioco e ci chiede di avere i suoi stessi sentimenti imparate da me che sono mite e umile di cuore. Ecco, con questa comunione con Gesù i nostri pesi che appunto sono insopportabili portati da noi stessi e basta diventano un dolce e leggero peso. Ecco, questo miracolo che ci mette forza che non ci toglie i pesi ma ci dà maggior forza e ci li fa sentire più leggeri è veramente il miracolo quotidiano di cui abbiamo bisogno ogni giorno. Ecco, ci affidiamo a lui alle sue mani al suo amore alla sua vicinanza così grande da poter essere compagno nel portare il gioco in questa vita. Ecco, è un mistero immenso di amore di tenerezza di vicinanza e non ci toglie la sofferenza ma ci fa sentire che c'è un senso meraviglioso perché Dio l'ha già capito questo senso noi facciamo ancora fatica ma portandola insieme con lui già ne condividiamo il senso perché nel cuore entra già questo significato ancora non capito e come in anticipo quasi ne intravediamo già i frutti e li godiamo già in maniera misteriosa insieme con Gesù. Ecco, se a volte abbiamo ancora delle difficoltà a lasciarci trovare da Gesù chiediamo alla Mamma Celeste ecco, la figura della Mamma è proprio quella che vince ogni ultima resistenza ogni ultima fatica che si frappone per lasciarci trovare incontrare portare da Gesù. Ecco, concludiamo con la nostra preghiera Vieni Gesù riempimi di te ti dono il mio cuore riempilo del tuo amore donami tutto te e con te donami le tue virtù amami Gesù fa che io ti ami con il tuo amore grazie Gesù grazie che io sono qui sono qui perché tu sei buono soltanto perché tu sei buono vieni da me che io vengo da te e siamo una cosa sola amore e misericordia e miseria una cosa sola il mondo ha bisogno di te amore e misericordia fa che io ti porti nel mondo interno il Signore sia con voi per intercessione della Mamma Celeste vi benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo e buona giornata carissimi a presto a presto a presto a presti a presto a presto a presto